Ricordo che siamo qui a votare una proposta di giunta condivisa dalla Commissione e dal Movimento 5 Stelle che porrà fine a tutta una serie di attività che non sono desiderate nella città di Roma e la richiesta di particolari vie da parte del Consigliere Corsetti non rispecchia eventualmente la mancanza di azione da parte delle amministrazioni precedenti che avrebbero potuto intervenire e non l'hanno fatto quindi oggi sembra quasi una vetrina per coloro che abitano in quelle vie per dire guardate vi stiamo proprio tutelando, vi togliamo il degrado da sotto casa se volete votateci che vi portiamo via il degrado